Gli italiani mi hanno fatto sentire subito a casa per la sua prima intervista. Parla al TG1 il nuovo ambasciatore statunitense a Roma, Lewis Eisenberg, amico personale di Trump, finanziere e filantropo. L'intervista è di Lucia Duraccio. Ambasciatore Eisenberg, lei conosce da vicino il presidente Donald Trump. Come convincerebbe le persone del fatto che non è così controverso e divisivo? È un uomo molto deciso a dispetto di quello che può apparire. Non improvvisa, anche se a volte può sembrare. Lui ha un piano e si realizzerà gradualmente. Stati Uniti, Nord Corea, la tensione sale ogni giorno di più. Lei pensa che la soluzione militare sia davvero sul tavolo? Innanzitutto mi lasci ringraziare l'Italia per la significativa decisione di espellere il potenziale ambasciatore nordcoreano dal paese. Detto questo, la Corea del Nord pone sfide esistenziali al mondo intero. Credo che nessuno voglia la guerra, ma se hai a che fare con qualcuno che ha intenzioni totalmente inesplicabili, lasciare tutte le opzioni sul tavolo, inclusa quella militare, è il modo appropriato di agire. I rapporti Stati Uniti-Italia sono già ottimi. Su quale ulteriore obiettivo intende dunque lavorare? Il mio primo obiettivo è fare in modo che questa stretta relazione rimanga e che alla fine del mio mandato risulti migliorata almeno di un po'. At least a little bit.